L'esploratore di fama mondiale, Maison James, è alle prese con gli ingranaggi di un'elicottero! Wow! 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 A quanto pare c'è una consegna urgente per me a quel centro postale FedEx! Wow! C'è mancato poco! Salve, signor Maison James! Ho un pacco per lei da sua sorella, Kyla! Wow! Forti! È un'antica tavola di pietra! Rispondi, Maison James! Ci sei! Sono qui! La tavola di pietra che mi hai spedito è davvero bella! È una mappa? Hai indovinato, Maison James! Devi usare quella mappa per trovare tre medaglioni d'oro nascosti il prima possibile! Il pianeta potrebbe essere in pericolo! Mi trovo su un'isola sperduta con un mega vulcano che potrebbe eruttare a momenti! L'unico modo per fermarlo è trovare quei medaglioni e portarmeli! Sto arrivando! Nessun problema! In realtà, un problema c'è! L'elicatero è senza carburante! Questa missione si fa sempre più difficile! Al nostro pianeta, servi tu! Devi riuscire a consegnare quei medaglioni! Consegnare? Mi serve qualcosa per consegnare una consegna! Aspetta un momento! Sì! Maison James usa le coordinate sulla mappa mentre corre verso il primo medaglione! Speriamo che questo furgone sia veloce! Con le consegne! Questo fiume è enorme! Ci vorrà una vita per girarci intorno! Ah-ha! Se riesco ad arrivare al porto prima che parta il traghetto, allora posso attraversare il fiume! Maison James! I vulcanologi dicono che il mega vulcano potrebbe devastare il pianeta! Ah, il primo medaglione! Non riesco a trovare le coordinate esatte! Oh-oh! C'è qualcosa sotto il traghetto che ci fa rovesciare! È un anaconda gigante che assomiglia al simbolo del serpente sulla tavola di pietra! Seguiamo quel serpente! Attenzione! Perché il serpente ci ha portati qui? Un momento! C'è qualcosa lassù! Forse con un leggero colpo del traghetto potrebbe funzionare! Preso! Ho il primo medaglione e mi sto dirigendo alle prossime coordinate della mappa! Ottimo lavoro, Maison James! Continua così! Oh-oh! Il tempo sta scadendo, fratellino! Secondo la mappa dovrei arrivare dritto a... Per un pelo! Ehi! Queste pietre giganti riportano dei simboli! Un quadrato, un triangolo, un cerchio e un rombo! Il prossimo medaglione dovrebbe riportare un rombo! Ci sono! È un enigma gigante! Ma queste pietre sono troppo pesanti da spostare! O forse no! Maison James manovra con abilità il bulldozer per spostare le enormi pietre! Serve un altro giro! Forse non è stata proprio un'ottima idea! Ecco il medaglione! Woohoo! Ho il secondo medaglione! Ne manca solo uno! E a quanto pare, il terzo medaglione si trova in Australia! Sto correndo lì! Non c'è tempo, Maison James! Non riuscirai mai ad andare in Australia e a tornare qui in tempo per fermare il vulcano! Allora verrò da te con due medaglioni! E mi è venuta un'idea folle per recuperare il terzo! Bene, bene, bene! Se non fosse per il mio storico rivale, Maison James! E se non fosse per il mio storico rivale, Maison James! E se non fosse per il mio storico rivale, Maison James! E se non fosse per il mio storico rivale, Maison James! E se non fosse per il mio storico rivale, Maison James! E se non fosse per il mio storico rivale, Maison James!